Il danno sul ponte che dà sull'usenzo è già stato riparato. L'assessore Riccardo Rossi ai lavori pubblici ci conferma che la struttura ha necessità di una manutenzione straordinaria che però quest'anno non può essere effettuata per la scarsità di risorse. Si spera, dice, di farlo il prossimo anno. Nel frattempo speriamo che qualcuno la smetta di utilizzare il ponte con la moto per le conseguenze ovvie.